a me piace molto questa categoria va bene la categoria dei duetti a me piace molto quindi se non ti dispiace io oggi te ne parlerei lei è brava lei è brava lei è bravissima dove la metti sta canta qualsiasi cosa e qualsiasi cosa canti è veramente brava lady gaga questa donna è nata per cantare c'è niente da fare come ilona stall ognuno c'è il suo lady gaga fa un album insieme a tony bennett tony bennett non so chi lo conosce ma noi diciamo un po old school ovviamente lo conosciamo molto bene perché ha fatto tra le canzoni più belle classici americani e italo americano tra l'altro come frecciano eccetera eccetera tra le canzoni più belle veramente del panorama classico americano tony bennett bella voce anche lui sempre tutto un po matato cioè un omone vecchia scuola proprio un bel un bel tipo e fanno questo album insieme e nella prima settimana vendono tipo 130 mila copie una roba di questo genere allora questa canzone è veramente bella è un duetto impossibile e che diventa possibilissimo diventa possibilissimo e tra l'altro veramente bel c'è proprio senti l'eleganza la classe c'è proprio non c'entra a fare o certo a fare non c'entra a fare allora amy tingos e questo un duetto probabile ma improbabile ma in assoluto secondo me nella storia della musica il anni fa era questa prima unione resta prima chiamalo così questa prima sindacation tra due generi musicali diversi ovvero il rock degli aere smith e il rap dei randi mc con lo scratch bellissimo walk this way veramente ha segnato è l'anello mancante ha segnato veramente il passaggio da quello che era il classico video fatto dall'artista a quella che diventa una cosa divertentissima e anche un po strabiliante se vogliamo di questa fusione tra il rock e il rap i randi mc vabbè li conosciamo rappettari fino alla morte con questi cappelli kangaroo bellissimo bellissimi e poi dopo ragazzi gli aerosmith steven taylor il succo un po questo diciamo uno studio registrazione di qua ci sono i randi mc e di là ci sono gli aerosmith gli aerosmith però non riescono a cantare a registrare le loro cose perché di qua fanno un gran casino allora steven taylor rocchettaro vecchio a scuola a certo punto si incavola prende l'asta del microfono sfonde il muro e bella la scena quando mette la testa di là per vedere chi era e faceva tutto questo casino e poi comincia diciamo la canzone insieme cominciano a cantare insieme e veramente questo è un pezzo ha spaccato di brutto io mi ricordo lo mettevo sempre al tenax quando facevamo le serate giovedì con gli studenti con gli universitari pierlu quando partiva walk this way pierlu volava todos volava due duetti anche quattretti volendo c'è proprio tanta roba pierlu tanto music never life slice